Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Oggi un video veramente diverso dal solito Sì, dimmi, cosa che tipo di video? Tu lo sai che da quando abbiamo deciso di mangiare in maniera più pulita ho cominciato a leggere e a informarmi un po' di più su queste tantissime cucine pulite che esistono Certo, perché prima noi piatti non li lavavamo Che c'entra per cucine pulite? Si intende una, per modi di cucinare... L'ordinata allora! No, no, proprio pulito, senza grassi, senza... Senza schifezze dentro, no? Non troppo processati i cibi E allora cosa c'è? Ci sono i vegetariani, ci sono i vegani Ci sono i rau, cioè quelli che mangiano tutto crudo Ci sono quelli che mangiano solo frutta C'è un mondo E poi ci sono gli igienisti Che sono coloro che mangiano naturalmente tutto naturale Seguendo una forma pulita di alimentazione Che sia anche eticamente pulita E tanto altro che non sto qui a dire Se volete, se vi incuriosisce questa cosa, internet neppie Inchurisitevi anche voi, incurisitevi Uffa, non si può sbagliare Inchurisitevi Allora, leggendo qua e là Io ho focalizzato quello che è il mio problema Voi sapete che ho un po' di cellulite sparsa a quella E quindi la cosa a cui dovrei rinunciare È il sale nella mia alimentazione A rinunciare al sale Sì, mi viene difficilissimo rinunciare al sale Perché a me piace mangiare sapido E allora mi sono messa a smanentare E ho trovato la possibilità di creare un sale senza il sale Come si fa il sale senza sale? Spostiamoci di là e andiamolo a fare Unico ingrediente per creare il nostro sale alternativo È del sedano Qui vedete un chilo e mezzo di coste di sedano Lavate, asciugate e repulite della parte della foglia Dove possono trovare il sedano? Dai, gas Allora, vedete come è fatto Lo sapete tutti come è fatto una costa di sedano Voi dovete tagliare e eliminare qua Dove c'è proprio l'aggiuntura naturale Tra la costa e la parte invece a foglia Tac Naturalmente dopo aver pulito benissimo tutta la costa Fatelo con almeno 5 mazzi di sedano questo Tagliate grossolanamente a pezzi il vostro sedano Adesso ci serve il mixer Ovviamente frullerete il sedano non tutto assieme Perché nel mixer non ci entra Lo faremo circa in 3 volte In 3 partite E allora adesso andiamo e frulliamo tutto il sedano Perfetto A questo punto avremo questo tritato di sedano Guardate, è così grossolano Ed è così che a noi serve Prendete la leccarda del forno Foderata di carta forno E versate il contenuto della boule all'interno di questo foglio Se ci sono dei pezzettoni più grandi Scattateli ora Perché può capitare che il mixer non prenda tutto E appiattite Ora continuo a frullare fino al riempimento di tutta la prima teglia Ed eccoci pronti per infornare la teglia di sedano Io la metterò in forno a 90 gradi con forno ventilato Anche se la filosofia igienista prevederebbe un'essiccazione al sole Oppure un'essiccazione in essiccatore Se volete rimanere invece in fase crudista Potete metterla sempre in forno La teglia a 40-45 gradi Ci vorrà molto più tempo Ma essiccherà comunque Col mio metodo ci vorranno circa 6-8 ore Parecchie ore di forno che io ho tenuto più o meno a 90 gradi costante Diciamo che le prime due ore l'ho fatta andare a 45 gradi Poi ho aumentato piano piano Man mano che l'essiccazione progrediva Quello che si ha è questo Due sottilissime sfoglie Vedete, totalmente desertificate Con appunto dei residuetti di sedano Quindi di tutto quel sedano Ciò che rimane è questo E questo sotto Adesso prendiamo tutto questo sedano E passiamolo al mixer Messo tutto il nostro sedano in bull Adesso frulliamolo E riduciamolo in una polvere E voilà Vedete la polvere che sale? Il nostro sale di sedano è pronto Più lo frullerete Più sottile sarà Potete arrivare anche a questa consistenza Io invece lo lascerò anche un pochettino più grossolano Vedete così Ma per una questione di gusto E anche di regolazione Mi piace che abbia più o meno la consistenza del sale Per regolarne sulle quantità Se fosse una polvere tipo zucchero a bello Magari mi perderei Essendola la prima volta che lo uso Vedete come si potrebbe ridurre? Allora Poi naturalmente lo conserverò In un barattolino E questo a quanto ho letto Dura anche sei mesi Quindi potete conservarlo In luogo fresco e asciutto In barattolo di vetro E condire i vostri alimenti Col sale di sedano Di tutto quel chilo e mezzo di sale Di sedano È venuto solo questo pochino 75 grammi Quindi Ragazzi La riduzione è veramente tanta Il tempo è veramente lungo La salinità C'è Ma non aspettatevi una salinità Cruenta come quella del sale Però è una buona sapidità Che può dare quello sprint in più a dei piatti Utilissimo perché ha problemi di Ritenzione idrica O di ipertensione O per chi vuole semplicemente Adottare una dieta sana E vuole mano mano Ridurre magari la quantità di sale Inserito nella propria dieta Provatelo E fatemi sapere che ne pensate Cosa vi suggerisco? Io vi suggerisco di cuocerlo a 90 gradi O di essiccarlo al sole Quindi buon sale a tutti Andiamo di là Che ho ancora qualcosa da dire Bene Avete visto come si fa? Come si fa? Semplicemente col sedano Col sedano vuole cosa ci vuole? E nient'altro Semplicemente col sedano Se fossimo igienisti Dovremmo avere O un essiccatore Oppure Meglio ancora Meglio ancora Proprio igienisti All'ennesima potenza Essiccarlo al sole Donne Quindi invece di comprarvi sale Fatevelo Fatevelo E quindi questo sale Che cosa farà? Farà la felicità Degli ipertesi Farà la felicità Di molte donne Che così Avranno un valido aiuto Per drenare i liquidi In maniera naturale Senza rinunciare Naturalmente Alla sapidità dei cibi Provatelo Naturalmente Come per il sale Non dovete Scatafasciare sul cibo Quantità immense Una spolveratina Come si fa col sale E tutto acquisirà Un buon sapore E quindi Noi ci rivediamo presto E magari in una prossima ricetta Utilizzeremo appunto Questo sale fatto col sedano Sulle vostre tavole Come sempre Ciao